Il 26 marzo del 20 decise di andare, noi non potemmo trattenerlo, non sappiamo come si faccia a non resistere più quando si è ancora vivi, Roberto lo sapeva. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!